In questa trentatresima domenica del tempo ordinario il Vangelo ci propone un testo molto noto che è quello della parabola dei talenti. Tutti conosciamo l'intreccio narrativo di questo testo. Il padrone si allontana e affida il proprio denaro, il talento è una quantità considerevole di denaro a tre servi, a uno ne affida cinque, a uno tre, a uno uno soltanto e al suo ritorno chiede conto di come è stato amministrato questo denaro. E tutti ricordiamo come il servo che aveva cinque talenti, li ha trafficati e li ha portati a dieci, lo stesso ha fatto quello che ne aveva tre, mentre quello che ne aveva uno solo per paura, per timore, lo ha nascosto e in qualche modo lo restituisce così com'era al proprio padrone. Senza entrare troppo nella analisi del senso spirituale di questa parabola, in realtà vorrei cogliere due suggestioni pedagogiche che mi sembrano particolarmente significative. La prima è abbastanza scontata, nel senso che questa parabola dei talenti viene usata come immagine per parlare dell'educazione, il fatto che l'educatore debba aiutare ogni persona a sviluppare i propri talenti e che ogni persona abbia i talenti che sono suoi e non quelli di un altro e quindi ciascuno debba essere valorizzato, aiutato a sviluppare quello che ha dentro come talenti interiori, come doti, come doni, in qualche misura questo è abbastanza utilizzata come immagine ed è stata utilizzata anche in un certo periodo della storia della scuola italiana, particolarmente all'inizio del ventunesimo secolo, proprio per indicare anche la pedagogia della personalizzazione, cioè per indicare l'idea che anche a scuola sarebbe necessario darsi da fare per valorizzare i talenti di ciascuno e quindi un'educazione non standardizzata ma personalizzata. C'è stato anche un dibattito dal punto di vista pedagogico sulla logica della personalizzazione e quella della individualizzazione. Ma io vorrei chiudere sottolineando un altro aspetto, sempre significativo dal punto di vista pedagogico. Nella parabola si fa riferimento non solo al fatto che a ciascuno vengano dati alcune talenti, ma al dovere di metterli a frutto. Lì è chiaro che ci riferiamo ai doni di Dio e quindi l'idea che uno abbia il dovere di mettere a frutto i doni di Dio è quantomeno intuitiva. Ma è essenziale che un educatore e un insegnante, oltre a fare la propria parte per valorizzare i talenti di ciascuno, si dia da fare per fare in modo che ciascuno maturi l'idea forte che davvero ha il dovere di metterli a frutto.